la pregna una birretta! Saluta luco 72 ciao luco 72 voleva dirti una cosa molla senti pare che con la lettera quelli che contano sono qua comunque voci fondate hanno detto che con la lettera fanno i filtrini questo non è bello questo non è per nulla bello, dico la verità questo è arrivato ragazzi è un cotti attendista no che sono sudato non ti voglio sporcare non ti preoccupare è un cotti attendista le ultime di cotti, attenzione è un po' caldo un po' d'acqua come finirà l'oroscopo di cotti? 0-0 cosa significa? non lo so avranno il coraggio di andare a vedere? per me si se ci vanno lo sai come finisce non lo so però se vanno a vedere però secondo me potrebbero farlo secondo me lo sai no io sono l'unico che sostiene che non ci vanno sarebbe un buon senso andarsi secondo me non ci vanno motivandolo che la maggioranza ha votato di non andare a vedere secondo me secondo me non essendo dentro il CDA ah non ci sei? no da sì no assolutamente no dietro queste sbarre se decide il nostro futuro in quella palazzina che è sfrastagliata non quella a destra quella a sinistra mi sto appoggiando un attimo che è l'ultima scanna gente con la bandiera della Nigeria non è mia è l'ultima scanna diretta dove lo scavalcamento e vanno a attaccare la macchina io voglio volpi a cosa chi è fatto? a guardarli lui sta partendo non ce la farà mai vai ti copro io non ti preoccupare ti copro io è bellissimo appena vedo uno inizia a cantare guarda tutti a parte l'isokinetic vai colpisce e torna senti io strombastavo da Sassu Marconi è un grande è un grande vai vai colpisci vai vai colpisci 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 vai inizia a correre inizia a correre attenzione è un momento di grandissima cosa sta partendo è solo lui è in testa sta arrivando sta arrivando è un'invasione attenzione si avvicina si avvicina è Leggiadro è vicino attenzione si apre una porta l'hanno peccato l'hanno rapito l'hanno rapito l'hanno rapito bastandolo franzinano al capo cantiere quando torna ci vuole passione però perché insomma ce lo merita c'è stata un'invasione eccolo eccolo non ce la fa più sei stato Leggiadro toccate Fuca bravo facciamogli un applauso bravo ci ha attaccato il cartello io voglio volpe la macchina del presidente è telecomandato bravo adesso respira e recupera 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 respira respira veli la macchina perfetta si deve entrare con un attetto alle pulizioni passinella gli sparassi no non credo non credo va bene ci colleghiamo fra un poco grazie a tutti